Ciao a tutti, oggi parliamo di vermi, soprattutto di un tipo di verme che sono gli ascaridi. Gli ascaridi che sono presenti sia nei nostri cani che nei nostri gatti. Nel cane sono presenti due tipi di ascaridi, il toxocara cani e il toxascaris leonina, nel gatto il toxocara cati e il toxascaris leonina. Sono dei vermi belli lunghi che si trovano nell'intestino dei nostri animali. Vengono trasmessi molto spesso dalle madri dei nostri cuccioli, dei nostri gattini e di solito avviene il passaggio dalla madre ai cuccioli e ai gattini attraverso la lattazione o attraverso la via transplacentare. Questo perché? Perché fondamentalmente una volta che il cane prende gli ascaridi, gli ascaridi hanno la capacità di incistarsi e quindi riattivarsi quando c'è uno stress. Di solito durante la gravidanza e poi la lattazione c'è questo stress e quindi c'è una mobilitazione e quindi anche sverminando la mamma molto spesso abbiamo comunque la trasmissione di questi parassiti poi ai cuccioli di cane e ai gattini da parte delle madri. Quindi è molto importante effettuare le sverminazioni poi ai cuccioli e ai gattini. Molto spesso non si comprende perché devono essere sverminati i cuccioli e i gattini proprio per questo motivo perché c'è sempre quasi sempre la trasmissione da parte della madre attraverso la lattazione. È molto più difficile che un gattino diciamo orfano abbia gli ascaridi piuttosto che un cucciolo, un gattino allevato dalla mamma per i due mesi proprio perché c'è questa riattivazione delle larve quindi la trasmissione attraverso la via mammaria fondamentalmente. Possono prenderlo anche attraverso l'ingestione di uova dalle feci quindi quando voi andate nei parchi andate magari nelle aree cani dove ci sono stati tanti cani magari può esserci un'ingestione da parte del vostro cane che lecca dovunque e quindi l'ingestione di queste uova che poi si schiuderanno e poi si formeranno le larve e poi fondamentalmente il parassita adulto che nel cane soprattutto può dare diarrea così come nel gatto e di solito nei gattini e nei cuccioli dove l'infestazione può essere massiva possono dare veramente dei grossi problemi anche di crescita possono dare mantello scadente, vomito, potete avere questi cuccioli che vomitano i vermi quando sono tanti e in casi gravi possono addirittura perforare l'intestino e quindi puoi creare una peritonite mortale nel vostro cucciolo e nel vostro gattino quindi è molto importante sapere che i gattini e i cuccioli vanno sempre sverminati e va sempre eseguito un esame delle feci da parte del vostro medico veterinario per verificare la presenza di uova tendenzialmente più uova ci sono più è massiva l'infestazione non è sempre ovviamente né così direttamente proporzionale però di sicuro l'esame delle feci ci dà un'idea della presenza di questo parassita di questi ascaridi che fondamentalmente, ripeto, nella maggior parte dei casi non ci danno grossi problemi ma se effettuiamo le sverminazioni correttamente ricordateci che sono in commercio tantissimi prodotti chiedete al vostro medico veterinario se avete dei cuccioli o se avete dei gattini che sono nati dai vostri cani o dai vostri gatti quale prodotto è meglio utilizzare esistono dei prodotti che vi fanno tutti i vermi sono dei prodotti che fanno solo alcuni vermi quindi è molto importante chiedere al vostro medico veterinario qual è il prodotto corretto e farvi la prescrizione farvi fare la prescrizione poi l'esame delle feci è importantissimo soprattutto quando avete un cucciolo la prima cosa che noi medici veterinari dobbiamo vedere di un cucciolo è l'esame delle feci proprio perché così riusciamo chiaramente a verificare la presenza di parassiti poi un'altra cosa importante è che esistono anche delle patologie legate proprio alla migrazione di queste larve molto spesso sono magari non sono così frequenti però esistono anche dei trombi che si formano a volte a causa di queste larve di ascaridi quindi la diagnosi ripeto è fondamentalmente legata a un esame coprologico si prende praticamente le feci e attraverso ovviamente un esame particolare si cerca di vedere poi la presenza di uova sul vetrino attraverso il microscopio è un esame molto semplice e poco costoso che chiaramente ci dà tante indicazioni ci permette chiaramente di evitare che i cuccioli e i gattini poi abbiano vomito e diarrea successivamente un'altra cosa importante da sapere fondamentalmente sugli ascaridi è che esistono alcuni mi fanno la domanda il mio cane potrebbe passarmi gli ascaridi una volta si diceva sicuramente no al 100% però in realtà gli ascaridi sono un po' dei parassiti particolari quindi si consiglia sempre un'igiene molto elevata non dovrebbe esserci grosse reazione cioè non dovrebbe il nostro cane e il nostro gatto trasmetterci gli ascaridi però l'uomo può prendere gli ascaridi non quelli del cane e del gatto però li può prendere quindi è molto importante tenere sempre un'igiene molto elevata anche se i vostri animali soprattutto se i vostri animali dormono con voi vivono con voi quindi è molto importante essere sicuri che i vostri animali non abbiano per esempio gli ascaridi non abbiano parassiti nelle fecci in modo tale che non vi possono chiaramente mai esserci dubbi che il vostro animale vi possa trasmettere qualcosa attualmente a livello scientifico è molto difficile che ci sia la trasmissione tra cane, gatto e uomo però ripeto in medicina non è matematica quindi mi raccomando sempre un'igiene elevata e mai essere sommari se il vostro gatto, il vostro cane ha la diarrea non bisogna tenere il cane e il gatto con la diarrea bisogna capire qual è il problema se il vostro cane e il gatto ha un vomito bisogna capire cos'è effettuare le varie sverminazioni gli antiparassitari fare le cose che ci permettono chiaramente di avere un rapporto sano anche a livello di salute con i nostri animali questo è sempre importante non c'entra tanto con gli ascaridi diciamo c'entra ovviamente con la gestione con il rapporto ricordate sempre che si sta lavorando ormai su una medicina One Health ovvero una medicina umana una medicina veterinaria comune in modo tale da ridurre le problematiche che ci sono legate alla trasmissione di patogeni tra animali, uomo e viceversa spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata